... Io vado dove c'è la... ... facciamo prima di là, voglio prendere... ... vado dove c'è la... come si chiama? ... ... orchidea ... ... andate lì... ... non facciamo giro... ... e poi andiamo lì tutti insieme... ... facciamo giro... ... che si vado anche lì... ... solo qua una cosa veloce... ... due minuti... ... vado... ... questa qua... ... vada questa qua... ... ce l'abbiamo giù questa qua sai... ... bella... ... questa è bella... ... bella questa... ... oh madonna... ... questa è bella... ... questa violetta così... ... piacerebbe... ... eh... ... bellissima questa... ... si si si... ... infatti... ... che bella... ... che bella questo fiore... ... mamma mia... ... colorate così... ... quella è bella... ... ... ... che bella... ... 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 Questa è 10 euro, vedi? Questa è 10 euro, troppa parola. Ah, quella qua, quella qua. Questa è 10 euro, vedi? Questa ho seriver là riguardo. Questa è quella qua? Questa è qua qua. Questa è quella qua? Continualeraiöglich la potenza di bil bello. Ok. Sono qui in un'alliazionato. Sono qui in un'alliazionato. Sono qui in un'alliazionato. Qui ha un'articolo.